Viene accolto dalla sigla di Cinema Paradiso, il film che gli è valsa un premio Oscar. Insieme alla musica un lungo applauso per Giuseppe Tornatore, che non ha perso l'umiltà del ragazzo di Bagheria, quasi imbarazzato dall'ovazione che gli viene dedicata. Ieri con Renzi per parlare del nuovo decreto che dovrebbe dare slancio alla cultura e al cinema, oggi con i ragazzi delle scuole medie di Lancusi per raccontare la sua storia, la sua voglia ancora di vivere e stupire. Un ritorno gradito da Tornatore nel Salernitano dove ebbe uno dei suoi primi riconoscimenti era il 1982 quando vinse un premio al Festival del Cinema di Salerno con un documentario, Le minoranze etniche in Sicilia. Il nostro cinema nonostante le grandi difficoltà di questi ultimi anni non smette mai di dimostrare grande vitalità, grande energia, con tutte le problematiche che abbiamo anche inerenti alla crisi economica. Non manca mai ogni anno la scoperta di nuovi registi, di nuovi attori, di nuovi scrittori, anche di nuovi giovani produttori che si affacciano sulla scena del cinema italiano con la loro capacità di rischiare, di affrontare nuove sfide. Insomma, non mi sembra una cinematografia che si rassegna alle difficoltà. Il cinema dovrebbe essere divulgato nelle scuole, dice rispondendo alle domande dei ragazzi. I classici potrebbero diventare materia di studio. Un cinema che si trasforma rapidamente ma che deve restare sempre ancorato alla sua storia senza mai perdersi. E' più limite opportunità nel digitale, nel social network, in questo modo anche di rappresentare l'immagine? No, di sicuro ci sono moltissime opportunità perché dà molte chance tecniche e anche di facilitazione nell'organizzazione del lavoro. E' naturale che ci sia anche qualche limite, nel senso che si perde qualcosa del vecchio modo di fare il cinema o di viverlo, però le chance che ci offre sono davvero innumerevoli.